Salve colleghi, con questo tutorial vorrei spiegarvi come risolvere uno dei problemi che più ci preoccupa in questi giorni, cioè ricevere un compito assegnato ad un alunno in maniera rapida senza appesantire, ingolfare la nostra mail personale e senza condividere dati sensibili se si tratta per esempio di un video e anche in maniera comoda e veloce. Allora entriamo nel nostro account Gmail, clicchiamo sui nove puntini, cioè sul mosaico di Google, entriamo nel nostro drive e clicchiamo sul pulsante nuovo, altro, moduli Google, cioè dobbiamo aprire un modulo Google. Immediatamente diamo il titolo e scriviamo per esempio tema, qui posso descrivere la consegna, qui nella descrizione del modulo posso scrivere qualsiasi cosa, specificare la consegna, dare le istruzioni, insomma qui posso fare quello che voglio. Poi vado sempre ad inserire la domanda nome e cognome, altrimenti non so chi mi invia il materiale, risposta breve e rendo la risposta obbligatoria in modo che l'alunno non possa dimenticare di inserire il suo nome. Poi aggiungo la prima domanda e cioè aggiungi domanda, invece che scegliere qui scelta multipla o qualsiasi altro tipo di risposta si possa prevedere in un quiz, io scelgo caricamento di file. In questo modo la persona che riceve questo modulo dovrà solo e soltanto inserire un suo file. Faccio continua e vi faccio vedere cos'altro posso scegliere. Qui in domanda non scrivo nulla e questo pulsante mi dice che tipo di file vuoi che ti venga restituito, un documento, un foglio di lavoro, un pdf, un video, una presentazione, un disegno, un'immagine o un file audio. Se per esempio io voglio solo un'immagine perché sono un docente di arte, cliccherò solo immagine. Se voglio soltanto un audio perché ho assegnato per esempio che venga esposto oralmente un certo brano che ho assegnato, io clicco audio. Se invece questo pulsante non lo scelgo, l'alunno potrà inserire qualsiasi tipo di file lui ritenga. Posso anche dire che nello stesso modulo mi vengano restituiti da 1 a 10 file. Quindi l'alunno in teoria potrebbe per esempio allegare e una presentazione e un file audio o un video e un documento, quello che vuole. Per esempio scelgo massimo 5 e anche le dimensioni massime, quindi il peso dei file che vengono allegati. Anche qui sceglierò obbligatorio così il ragazzo non si dimentica di allegare nulla e non me lo manda vuoto. Dopo aver predisposto il nostro modulo per ricevere il compito lo dobbiamo inviare all'alunno, lui lo riceve a sua volta e inserisce il suo lavoro. Come facciamo? Come per tutti i moduli Google, clicchiamo su invia, clicchiamo sul simbolo del link che è questa catenella, abbreviamo il link, ma non è necessario, lo copiamo. Come vedete anche in questo caso il link rimane copiato negli appunti temporanei e lo andiamo a incollare in impari, nel registro elettronico, nel gruppo WhatsApp o negli altri canali di condivisione che avete con i vostri alunni. L'alunno riceve il link, apre il link, legge la consegna e successivamente allega il suo lavoro. A questo punto faccio l'anteprima, vediamo che cosa succede, come vede l'alunno il modulo. Questa parte qui dice soltanto a chi riceve il file, che il file che viene inviato al docente sarà archiviato nella sua casella personale, quindi in questo caso io ho questa casella qui, casella per la scuola. Qui l'alunno dovrà inserire obbligatoriamente la sua risposta e qui aggiungerà file. Se io fossi l'alunno potrei prendere un file dal mio dispositivo, cioè dal mio computer fisso, per esempio vedete io posso allegare un file audio, oppure posso inviare un'immagine, oppure un documento qualsiasi, un documento di testo, un file di Excel, qualsiasi cosa. Lo seleziono, faccio apri e lo aggiungo. Come vedete mi dà l'opportunità a me alunno che rispondo di aggiungere anche altri file, sempre dal mio computer, oppure li posso selezionare dal drive. Quindi dal mio drive posso aggiungere un file qualsiasi, un file audio, un file di testo, qualsiasi cosa. Lo seleziono, ci clicco dentro selezionandolo, vedete che questa striscia si colora di un azzurro chiaro, segno che l'ho selezionato, e poi clicco ovviamente su seleziona e lo invio. Ah, qui devo obbligatoriamente scrivere il mio nome e invio. Tema sull'inquinamento? La tua risposta è stata registrata. Ora torno a guardare il modulo creato da me, docente, e vedo che qui c'è qualcuno che mi ha inviato una risposta. Quindi adesso sono il docente, riapro il modulo su cui stavo lavorando, tema sull'inquinamento, vedo subito che qualcuno mi ha mandato una risposta. Vado ad aprire e trovo la risposta che mi ha inviato l'alunno Vale. Clicco qui e vedo la ricetta che l'alunno mi ha inviato. E' fatta. E quindi, a mano a mano che gli alunni manderanno il file, il numero di risposte salirà. Quindi vedrò che uno, due, tre, quattro alunni mi hanno inviato la loro risposta. In questo modo io ricevo il compito, ripeto, senza usare praticamente la mia casella di posta, in maniera molto rapida e facile anche per l'alunno. Per ora è tutto. Come sempre, se avete bisogno di ulteriori spiegazioni, potete contattarmi.